Con che frequenza bisogna lavare un cane? Una volta al mese, a seconda del manto e dello stile di vita, non è necessario lavarlo. Sicuramente almeno una volta al mese. Non è necessario lavarmi. Come bisogna asciugare il cane dopo il bagno? Con un asciugamano e soffiatore. Lasciandolo asciugare all'aria aperta, non è necessario asciugarlo. Sicuramente con un asciugamano e un soffiatore. Dove è meglio lavare il cane? Nel lavandino di casa, nel box doccia, in una vasca apposita. Meglio predisporre una vasca apposita in modo tale che abbiamo tutto organizzato. Dalla toilettatrice bona che mi tocca le palle. Cosa usare per lo shampoo del cane? Shampoo per umani, prodotti specifici per cani, sapone di Marsiglia. Prodotti specifici per cani. Come togliere eventuali parassiti al cane? Esiste lo shampoo antiparassitario. Facendolo grattare contro un albero, non è importante liberarsene. Fortificano la salute. Esistono comunque gli shampoo antiparassitario. Esiste pure il collare e la pipetta antiparassitari. Sicuramente, parlando di quante volte bisogna lavare il cane, il manto e lo stile di vita, giustamente influenzano. Però, in generale, una volta al mese sarebbe al minimo sindacabile per cani che abbiano in appartamento. Ovviamente, predico bene, razzolo male in prima persona, però, diciamo che andare o dal toilettatore o comunque anche in casa, lavare il cane. Ovviamente, lavarlo in una vasca apposita, quindi magari predisporre, anche perché è un pelo medio, lungo, giustamente va a tappare. Quelle che sono gli scarichi, magari, della doccia, quindi meglio, magari, chi ha una terrazza o, giustamente, il giardino, predisporre una vasca lì e fare il lavaggio lì. Oppure, ovviamente, andare dal toilettatore. Lo asciughiamo sempre molto, molto bene, soprattutto d'inverno, ma comunque, anche d'estate, a meno che, appunto, non possiamo lasciarlo sotto il sole e anche lì, in base alle razze, non possono stare troppo tempo sotto il sole. Però cerchiamo di, ovviamente, avere un buon asciugamano, ma con pochi euro possiamo acquistare un soffiatore, quindi un phon predisposto, un po' più potente per i cani, che sicuramente è un'ottima soluzione, sicuramente meglio del phon nostro domestico. Per quanto riguarda i prodotti, sicuramente esistono i prodotti specifici, il buon vecchio sapone di Marsiglia, che comunque i nonni utilizzavano, se quanto mai lavavano il cane, però diciamo che il sapone di Marsiglia, essendo abbastanza neutro, potrebbe anche andare bene, però diciamo che ad oggi ci sono dei prodotti che sicuramente sono testati e sono migliori. Prodotti anche che variano in base al colore del manto, alle caratteristiche del pelle, eccetera, eccetera. Quindi andiamoci ad informare con un buon telettatore circa i prodotti da utilizzare. Come ci ha ricordato Axel, è sempre meglio utilizzare un collare o una pipetta antiparassitario, quindi prevenire i parassiti, anziché trovarci con la necessità di fare proprio un bagno antiparassitario, perché appunto ci sfugge di mano questa situazione. Però eventualmente, ovviamente se siamo in una condizione di estremi pulci o zecchie, è meglio utilizzare appunto uno shampoo antiparassitario. Bene, come sempre vi ricordo che i quiz sono sempre una scusa per parlare di determinati argomenti, quindi aspetto nei vostri commenti sia le vostre risposte che eventualmente altri dubbi e domande. Ci vediamo al prossimo quiz.